Una violenta ondata di maltempo si sta battendo in queste ore anche sul nostro territorio, con forti piogge e vento. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Tretti a Sant'Orso per due alberi sradicati e caduti sulla strada. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri hanno tagliato le due piante e liberato la sede stradale, che è stata poi riaperta.